Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno e i dolori muscolari si fanno sentire a bestia. E va bene, monto? Te li senti Fabio, dolori? Si, c'è il polpaccio, c'è il polpaccio, c'è il polpaccio, c'è il polpaccio, sono un po' feriti, non lo so, c'è adesso il polpaccio. Oggi sarà dura. Eccoci qua, buongiorno ragazzi, siamo stanchi ma carichi e si riparte. Fabio, fai la cavia, dici se tu sei? Potabile? Potabile? Se poi muori nei prossimi giorni vi avvertiremo, promesso. Grande gruppo Erasmus! Bado che sei ripreso! Hai di qua? Si sta per sbagliare, ci avevi salvati. E ora inizia la scalata del Monte Senario. Dai ragazzacci il cartello dava due ore. Testa bassa, umiltà e si avanza. E dopo un'ora e cinquanta che camminiamo, pausina. Comunque la frutta secca e la saldezza. Mandorline, noci, noccioline, qualsiasi cosa ma approved, frutta secca. E questa che un'è fa. No, maledetti! Ci avete ripreso! Dov'è Trotto? Il Fruttolino. Monte Senario, un'ora e venti. E ora si rientra nel sentierino. Che l'ho fatta, Monto? Che cagli? Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati e ora pranzino. E dopo panino, gelatino, caffettino, si riparte. E adesso è tutta in discesa. Io mi preparo per schizzare in menisco e colpisce Fabio. Va più lento della minonna. La minonna va più veloce, te lo giuro. Eh, dopo cinque giorni di cammino, dura eh, dura. Mi hanno perso il seno per prenderla lì. È Fiesole quello? Ragazzi, quello è Fiesole. Ma quello è Firenze? Si vede il Duomo! Si vede il Duomo! Si vede il Duomo! Si vede il Duomo! Si vede il cupolone! Si vede il cupolone ragazzi! Ci siamo ragazzi, si vede Firenze! Noi, no, no! Noi, no, no, no! Noi, no, no! Noi, no! Pausina, due mandorline al volo, giusto per riprendere le energie e poi si riparte, ancora la strada è lunga. Siamo arrivati a Poggio Operatone, Fiesole è là, insomma ancora un pochino c'è. Siamo quasi in fondo alla discesa e a Fiesole sprizzino, pausina fatta a modo e poi mi sa che almeno io e Fabio di sicuro si continua fino a Firenze, vogliamo arrivare sotto il Duomo. Siamo rimasti per la prima volta secco d'acqua e con un po' di sete, questo perché dal Monte Senario in poi zero punti d'acqua, quindi mi consiglio e caricatevi tanto d'acqua, poi oggi fa più caldo degli altri giorni, quindi accusiamo anche il caldo, quindi sconsigliatissimo farla ad agosto, almeno che non siate parecchio preparati e parecchio cazzuti anche. Fontanino, poco prima di Fiesole, ragazzi la salvezza, eravamo a secco. Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo a Fiesole. Ragazzi, siamo quasi arrivati, ma siamo in delle condizioni, abbronzatura, paurosa, io ho un'ustione, non so cosa ho, però ora ci riprendiamo. E oltre l'alcol, un po' di carboidrati e calorie, Dio buono. Davvero. Andrea, questo in ghiaccio dalle piani dolori, dalle bruciature, il Monte fa i galletti perché sa di essere arrivata in capolinea. Io sto cercando di raccogliere le forze per partire qui a Firenze. Ragazzi, arriveremo a Firenze, se arriveremo io e il grande Fabio perché Monto ci abbandona a causa Cinocchio e Drea ci abbandona a causa Polpaccio. Ragazzi, siamo a 30 km, come avevo già detto ieri, confermo, dai 30 si fa sentire. A parte guarda che panorama, non so se si vede, ma è pazzesco. Grazie a tutti. Eccolo, il bastardo. Ma no, è bello, non è mai stato così bello. Davvero. Emo, spiaggiate. Spiaggiate. Pausino?